Amazon artigianato calabrese, un connubio che è già realtà. Il colosso dello shopping online distribuirà nel mondo i prodotti artigianali made in Calabria che finalmente si affacciano sul mercato internazionale. Un'unione frutto di un accordo tra la regione e il colosso del commercio elettronico. In un'area geografica in cui ogni territorio ha un distinto e caratteristico centro di produzione, saranno ora a portata di e-commerce pezzi creati e lavorati a mano, spesso anche espressione dell'arte popolare locale o di antiche tecniche alimentari. Come gli zufoli di San Luca, i vetri di Bagnara, il rame di Serra San Bruno, i panari di Vimini di Cosenza e ancora i pendagli e i monili dei maestri orafi di Crotone e San Giovanni in Fiore, le pipe in radica ad Aspromonte di Brognaturo, la ceramica di Squillace e le maschere di Seminara. Per non parlare dei mostaccioli di Soriano, l'anduia di Spilinga, i fichi secchi del Cosentino, conserve, confetture e tanto altro. Sulla piattaforma di Amazon, i prodotti realizzati dai maestri artigiani potranno rilanciare il settore raccogliendo la sfida dell'innovazione. Si valorizzerà la storia degli artigiani, le tradizioni e le capacità manufatturiere della Calabria, un'opportunità straordinaria per crescere, innovare e competere. Con l'iscrizione al sito di e-commerce di almeno 50 aziende con abbonamento gratuito per i primi mesi, la Calabria sarà dunque la terza regione dopo Toscana e Sardegna ad ottenere una sezione della piattaforma dedicata. Innovazione e internazionalizzazione sono parole chiave per l'artigianato, spiega l'assessore allo sviluppo economico Carmela Badalace. Le imprese calabresi che hanno reagito meglio alla crisi sono quelle che hanno saputo trasformare le difficoltà in opportunità, rivolgendo l'attenzione ai mercati esteri e inserendo all'interno dei loro processi sistemi innovativi, sia negli aspetti produttivi sia nella commercializzazione. Questo modello, ha detto invece il presidente della regione, Gerardo Mario Oliverio, è una rivoluzione anche per quanto riguarda il rapporto con lo spazio. Non c'è più in questa impostazione la periferia e il centro, non c'è l'area della grande metropoli e l'area periferica. Attraverso questo strumento consumatori e produttori sono tutti alla stessa distanza. Per la nostra regione, che ha avuto nella perifericità uno dei gap più drammatici strutturali storici, significa una rivoluzione. Non si tratta di fare azioni di propaganda, abbiamo chiesto ad Amazon di mettere a disposizione queste potenzialità per mettere la nostra regione in una condizione di opportunità. È importante coglierla e come ente regionale dobbiamo svolgere una funzione in questa direzione. Ora infatti spetta a noi, ha concluso Oliverio, ai produttori e alla rete utilizzare al meglio questo canale, non esclusivo ma molto importante, per agevolare il confronto con il mercato. In questa direzione bisogna andare verso l'aggregazione del prodotto, verso processi cooperativi che bisogna spingere contro la frammentazione.